ben tornati salve a tutti rift free to play o almeno una mezza specie io sono questa super grandissima aspetta che ti dico in giro com'è che si levava qui l'interfaccia? boh ah f2 ci non funziona un funziona sembrava uno straniero quasi quasi allora votiamo che lo guardo che significa? kbindings ci sarà come togliere ah ok nel frattempo tu puoi riempire lo spazio dentro io cerco se vuoi nel frattempo dopo che è passato un discreto numero di mesi dall'ultima volta che abbiamo loggato questo gioco fondamentalmente perché il mio computer non ce la faceva a gestire i rift perché non tutto il gioco solo i rift torniamo con piacere su questo titolo che a me sinceramente mi è piaciuto per tutta una serie di motivi e poi guardate mi sono fatto veramente ecco intanto ci passa un mufflone davanti un donnone io sono contro l'u e fai spegne l'interfaccia la nana vicino sono io sì io che nella vita reale sono un nano bagonghi come si dice queste parti qui ho voluto un po' strafare diciamo contro l'u bravissimo ok così giochiamo sto registrando anche facendo vedere allora siamo a registrare quello che credo è una specie di carnevale sì credo di essere una sorta di fiera meravigliosa io adoro queste cose abbiamo finito di giro su un ragno abbiamo finito di schiacciare i palloncini come attività della serata sì ma io voglio capire come funziona questa corsa qui dei cavalli qua la giostrina come funziona? ti metto l'interfaccia per esempio contro l'u non ho ancora più tornato mi stavo già a traccare on the man come funziona? lo sei ridata la quest frattempo io l'ho ridata ah e la puoi riprendere? sì devi fare tre giochetti scemi eh lo so devo fare tre nel frattempo credo che abbiamo lootato ci hanno dato tipo bags di qualche cazzo sì ma che la puoi usare solamente se paghi ti hanno dato una bags che ti aumenta e il denaro che gli uti ho provato di cui parla mi ha detto ah ci abbiamo avuto ripresa devo rifarlo di nuovo salto così la facciamo vedere allora aspetta che la riprendo la rifacciamo insieme ho quattro minuti perciò bisogna essere assaltato con un matto nel frattempo che passate delle mount nel frattempo amico mi potresti contro l'u no è modo per toglierla com'era io contro l'u no ah sì ma come no con calma con calma lei prende la frenzio da giochino questo con il ragno questo è un ragno ciao ragno viva viva mi piacciono queste cose da impazzire mi sono andato un po' lunga qua fai dei saltoni magari la atti c'è che ti ridi salta lo dico che mi sono fatto coinvolgere in una serata di salti sui palloni ad acqua io invece mi volevo coinvolgere sul fatto che la prima volta che ho fatto questa quest pensavo di doverci saltare letteralmente sopra su ogni palloncino ci ho messo 72 anni invece basta che ci stai nelle vicinanze facciamola di nuovo perché quattro minuti abbiamo finito la quest di fare tre volte e facciamo un altro giochino vedi ho fatti altri giochini questo su questo ah diciamo anche che classe siamo io ho un mage e lei un cleric sì questo rift è abbastanza particolare perché ha moltissime combinazioni di classi sì perché c'è 250 combinazioni possibili perché sono tre sostanzialmente tre alberi sì poi hai un totale di sei alberi sei specializzazioni che puoi combinare a gruppi da tre quindi le combinazioni sono quasi 250 combinazioni e in questo infatti è molto personale nel senso che ok c'è la combinazione migliore se vuoi fare questo piuttosto che quello però sostanzialmente non c'è la combinazione in assoluto migliore no te la puoi decidere tu anche in base al tipo di giocatore che sei non mi lascia mi ruba i palloncini a scoppiare ma ci sta un altro puzzo qua dietro che ti sta 30 palloni di 30 ma adesso è clean perché non lo voglio fare andiamo a cercare andiamo a dare la costa a questo qui andiamo a dare un super vestito bellissimo della festa io voglio un super vestito bellissimo della festa si ma ora non c'è ah ci siamo una mount ah si aspetta che non ho abbastanza spazio qua mi devo usare qualcosa che cacchio questo è un grande vizio ti ripeto non riprendevo questo gioco da una vita e c'ho l'inventario pieno che dove è scendendo ah vedi ci sono le maschere i confetti e la mount nebula ci vogliono 5 cosini 5 cosini cosa? 5 di quelli token che ci ha appena dato ok aspetta a me non ho ancora mai dato niente vabbò a te ti ripiglio crafting fantastico andiamo a riparlo quindi adesso perché puoi avere sia le bende glass blend che vedi qui da questo vendor qui aspetta che non ti trovo dove sei? qua giù? guardami si 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 ecco di qua parla con questo vendor aspetta che nella mia infinita altezza ah vedi vedi pregno e non possiamo vedere come ci stanno vero? no su delle maschere si 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 lo possiamo fare si lo possiamo fare è una meraviglia praticamente vacci control e ti esce una sorta di lente di ingrandimento clicchi e vedi come ti sta la maschera è una figata fallo vedere fallo vedere aspetta ah questo è un po' la pregno giustamente meraviglioso vi faccio vedere qualche maschera grazie mi metto anche bella al centro su delle maschere sempre il carnevale di venezia più che altro si è una figata infatti hai visto? meraviglia meraviglia quanto mi piacciono queste cose a me si ma adesso dovrei scoprire come fare a fare tante almeno 5 bag carnival prize che mi dà? ci sono i giochini sparsi per qui eh ah i palli vedi con adesso quante prize c'hai? 3 prize poi come un tabard che carino il tabard guardalo mettiti il tabard aspetta aspetta dove sta? il primo ascent and tabard un cazzapuffo questo ah eccolo carino ah questo vedi un vestitallo che si può fare perché non lo posso mettere qua? uno di quali amici dice lo posso prendere? ma spai si poi non so se troppo amico no non ho ancora capito bene le limitazioni del questo qua dice di andare qui andiamo uscendo da questo tizio qua da quale tizio? ah ho fallito credo una quest ring toss failed non so ah no no il woodwork niente quello dei mestieri vecchio brutto e aspetta che ho fallito il ring toss e lo volevo abbandonare e riprendere allora il mio problema al momento è questo come faccio a prendere altri token super fichi per prendere la mount? eh penso con gli altri giochini forse ah vedi la corsa dei cavallucci che tu scommetti sul cavalluccio eh dove sta? qua c'è la corsa tu metti qua sopra quando finisce ok basta che ci metto su non lo so ma ti sto a dire che ho capito come funziona non che so come funziona credo che bisogna parlare con qualcuno sì credo che sia qui la tizia qua game joiner ti dice vedi che non puoi giornare perché la gara la gara è già iniziata vai là ti registri e poi ti fa partire fantastico fantastico questa ti legge la fortuna ok ma aspettiamo che finisci la gara sì mi piace questa cosa delle giostrine hai vinto ecco registriamoci vai non la posso farmi c'è ancora ok adesso accetta ok quindi adesso accetta e i wish you join io prendo io verde blu ok vado sul blu che è questo vero? sì vero c'è scritto anche per quelli che non vedo ok aspettiamo mi piace questa cosa da morire ti ricordi quella puntata di quegli accattoni che vanno rincosando le cose in giro per l'America nei magazzini come si chiama quella trasmissione? su sky discovery channel sì sì no history channel i due matti che vanno archeologi sì sì bravissimo ti ricordi quando hanno trovato un cosino di questi? vedi mi facciamo anche cultura oltre ai gaming come hanno tutte le cose scritte in maniera inquietante questi cavalli? ma effetto aerodinamico sbrilluccicano pure dai quando inizia quando inizia dai io ho veramente un aspetto arredo non l'ho fatta con molto gusto lei margheri? qui il cap è il livello 20 comunque oltre non la potete proprio usare per il free per il free sì quello che avevo il 35 rimasto lì e quanto ci mette questo? ma io le vado a chiedere scusa amico no 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 vedo no 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 vedo no 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 sono sempre qua vai verde vai verde fai un po' il tifo che sei un morto di sonno vai verde che sei in vantaggio vai verde che sei in vantaggio il blu il blu invece è morto guardalo ah sono sei giri no come sei giri? guarda in realtà non è affetta da nessuna sostanza psicotrofe è proprio così cioè lei si diverte lei lo vorrebbe in casa un agenzio così pensi che sarebbe proprio fregno sì sì fregno è una cosa indigene mi piacerebbe molto bello dai tre ma che tre vai verde siamo a metà gara vai sei era solo un inganno per farti spaventa capito? oddio guarda sarà inservibile questo pezzo audio che hai fatto adesso dai cavallino dai cavallino dai forza 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 eh ma ci sta il giallo sta a fa un po' un testa a testa dici? mh il blu è decisamente in ultima posizione mh sta avanti il giallo vai verde vai verde allora il rosso è la corsia a uno ah no non si capisce fanno un cambio in la corsia no fanno un po' come cazzo e gli va eh lo capito in buona sostanza no ho perduto ho vinto il giallo no già l'ha vinto però forse ci dà uno schiaffo un qualcosa ci darà credo si un price ticket mh che culo ok andiamo da fare un altro vediamo questo gioco qui c'è credo ho visto la possibilità di abbonarsi a questo non so come funziona questo qua? si che roba è? ah toss the ring sei quello proprio da festi sant'andrea feste indigene del porto devi tirare un anello dentro ue come si fa? credo ti abbia dato un oggetto ring toss ah ok si ce l'ho qua e quindi che devo fare? io non ancora lo trovo e lo devi tirare da qualche parte immagino sai? dove è il ring toss? che formavo? mi dirai di ring? no sta accanto alla quest ah ok bellissimo lo cercavo nella ok ah ok ho capito come funziona che devo fa? premi sull'iconcina poi ti appare un cerchio per terra e tu devi prendere sti mamma luchi che camminano e mi sposto perchè mi stanno a massacrare non vedo ok too far away ok quindi quando vieni qua amico tatatatam ah tatatatam vieni qua vieni qua vieni qua brutto bagarospo tatatam vabbè ma sono un'handicappata sta cosina è una figata io aspetto che arrivino qui dai arriva dai e poi c'è mi si stringe la visuale non riesco ok da qua forse me la capo meglio dai 4 di 8 sono a metà tu ne hai preso 4 io nemmeno 1 no ma tu mi stai cazzata a me non mi hai detto rende così gioco mi stia di una cazzata io non mi chiamo tizia no no mi stia di sicura cazzata no no ti giuro dai dai 5 di 8 vai dove è stata sembra quella parte poi vado dentro una mamma no praticamente ti fa un cerchio davanti una sorta di fiora capito che sto usando il cerchio ma non ci venivano mai alla prima parte ebbè se tu aspetti che arrivino 8 di 8 ma voglio vincere pure io vieni qua vieni vieni 8 di 8 yeah sono proprio un tipo da festa guarda di quella cosa sono praticamente certo troppo fregno sto giochetto mi è piaciuto un casino io lo sto odiando ogni secondo che passa quanto mi piacciono le fiere nei giochi non ho idea anzi si ce l'ha idea mi hai trascinato a fare una pudra su sta cosa e io praticamente sto registrando ti avviso 10 minuti quindi vedi di riempirlo io che manco dei baccarospi da per terra 5 e comunque io voglio questa cosa di palloncini non si può avere si si paga con i con i i token quelli i biglietti mi piacciono i biglietti come direbbero queste parti i biglietti come direbbero la festa di San Andrea questa è il posto in cui ci sono cose come i Mats Mouril non saprete mai che cos'è uno stiamo facendo cultura indigia delle giosse smaccio cioè il piattaro non siamo un popolo dei giostrider non è nessuno come dal libro della non mi ricordo le giosse sono per gli scemi ah li devi anticipasti i bastardelli si De Gregorio tipo lei si chiama qualcosa del genere ah quindi per fortuna puoi continuare fino ad essere umiliato si comunque siamo un popolo di giostrider queste parti mi dispiace per confessare comunque la mia parziale di scolpa gioco con il gatto addosso eeeh ho finito non è vero il gatto ce l'ho addosso però ecco una mount di quelle uber fighe di questo giochino questo c'è le risorse perfino elettriche ci sono ci sono tra ecco power probabilmente si e comunque ci sono i gatti in questo giochino e quindi mi si è molto rivalutato ci sono i micetti in giro allora ripesa di nuovo la farò perché no no a queste invece che dobbiamo fare ok abbiamo un kit dove dobbiamo andare eh non ho capito bene cioè col kit ah dobbiamo andare outside qua qua fuori al ponte proviamo usiamo sto kit dai dai mi piacciono le feste organizza una festa nella reale ma dobbiamo avere per farlo funzionare dobbiamo avere della roba vuoi fare una festa si perché no questo qui si lo dobbiamo usare in un posto sto kit no you must have five a me non mi c'è niente premici sopra ah dobbiamo andare al palatin crafting cart dobbiamo gonfiare palloncini via ma per ora il palatin crafting cart sai dov'è eh un sacco fuori metti il cavalluccio va cavallino il mio chocolate andiamo a sto crafting cart e poi vediamo la puntata perché mi sembra anche di aver abusato della pazienza di chi ci ascolta ma dai si saranno fatti due risate eccolo qui vedi guarda che fico 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 dobbiamo fare dobbiamo you must have five helium blossom che credo siano in giro sti helium blossom cioè sono delle cose da cercare allora chiudiamo vabbè salutiamo sì altrimenti 200 anni ciao gente ciao ciao